le venne in mente quel primo ignoto per molti versi incompreso maestro della cattedrale rimosso dal successivo soccorso di lorenzo maitani dal 1290 ai primi anni del 300 quello sconosciuto e stromesso genio aveva dato al duomo la sua singolarità completamente occultata dalla facciata maitanesca ma persistente ravvisabile proprio sui fianchi della cattedrale non toccati né dagli interventi di maitani né dai successivi lavori l'edificio architettato anche dall'esterno aveva osservato mirabilmente nel suo studio renato bonelli è la prima volta che nell'architettura del medioevo si rivela una ben definita e spiccata personalità di artista e si afferma con ciò il valore dell'individualità che distaccandosi dalle vecchie concezioni comincia a operare nell'indipendenza perché attinge nella propria inconfondibile facoltà creatrice quell'artista che aveva attinto dal profondo di sé come era stato simile il suo cammino a quello dell'autenticità quanto ardua e altrettanto negata la sua profonda originale ricerca un consenso fragile volto a una manifestazione unica e controcorrente assolutamente geniale e indipendente ma che sarebbe presto in corsa nell'incomprensione di nuovo a vantaggio delle tendenze figurative contemporanee e tuttavia l'inconfondibile traccia era rimasta a rendere unica con quel canone inverso la cattedrale di ordieto tra tutto era quella corrispondenza formale tra interno ed esterno che più di ogni altro particolare l'affascinava quelle cappelle stradossate che non avevano uguale quella trasparente adesione tra il dentro e il fuori